Si sono svolti anche quest'anno, sebbene con l'utilizzo degli strumenti social, i tradizionali auguri di Pasqua tra la Presidenza dell'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania e Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi. Nell'occasione, insieme ai presidenti delle associazioni parrocchiari, il Vescovo ha voluto portare la sua riflessione su questo difficile tempo di pandemia e sull'importanza del vivere la Quaresima in preparazione della Pasqua con uno spirito di speranza e di fiducia. Ha ringraziato anche l'Azione Cattolica per l'importante ruolo svolto nelle diverse parrocchie della Diocesi per accompagnare questo tempo difficile, non fermando l'attività che ha portato adulti, giovani e giovanissimi a vivere comunque questo tempo, sebbene con strumenti e modalità nuove. Un modo anche questo per alimentare la speranza e vivere questo tempo di Pasqua con gioia e gratitudine. Auguri allora a tutti quanti voi. Auguri di Pasqua. Grazie.